Benvenuti nel laboratorio WikiWiki, l'intelligenza reale, contrapponiamo a questa dilagante invenzione che definisce queste tecnologie come intelligenti e giustamente artificiali, cominciamo a contrapporre la vera natura dell'intelligenza, quella reale, con la R maiuscola intendo, che è regale, che è quella che proviene dal campo di coscienza e non certo da fibre ottiche tecnologiche. Iniziamo ad usarla perché contrapponiamo non solo un termine ma anche una tendenza, una coscienza, una falsa credenza che questa sia un'intelligenza, quella artificiale, e un'altra delle grandi trappole che può innescare quel classico timore reverenziale verso quello che è più forte di noi. Non è così, è il tempo invece di andare a rispolverare le intelligenze reali, quelle che scimmiottano proprio le intelligenze artificiali. Sono in nostro possesso e lo facciamo con uno scopo specifico che è quello di iniziare a imparare, perché non l'ha già imparato, lo sta facendo, sta iniziando ad apprenderlo, a interagire a distanza, a distanza di tempo e a distanza anche di spazio. Quindi comunicare e agire oltre il tempo e lo spazio è quello che ci proponiamo di approcciare in queste serie di incontri e quindi quello di poter modulare le energie a distanza. Siamo al varco zero, cioè quello di presentazione di questo percorso, che in qualche modo ci introduce al campo di comunicazione. Tutto ciò che esiste, esiste in quanto campo comunicativo, totalmente interconnesso attraverso una serie di sistemi, di canali, di comunicazione su frequenze differenti, attraverso forme, materie, vettori differenti. E tutto questo avviene grazie alla materia delle materie, la non materia, l'etere, la quinta essenza, ciò da cui noi proveniamo, ciò a cui tenderemo, che è il contenitore del tutto e del nulla, il vuoto, ciò da cui scaturisce non solo la vita ma anche la materia. Ecco, a proposito di quello che ci dicevamo prima, contestualizziamo questo modulo, wiki wiki, in che cosa si inserisce? Voglio che sappiate che siamo qui non per fantasticare, non per fare magie, esperienze magiche che non abbiano delle finalità chiare. Noi siamo all'interno di un percorso, partito qualche tempo fa, intorno al concetto di economia alchemica, che tra l'altro poi è stato oggetto di un libro che trovate ovviamente in vendita, di Anima Edizioni. Ho creato anche un videopercorso perché io mi occupo di questo, cioè mi occupo di talento, di talento individuale e talento collettivo e quindi il mio campo è la manifestazione del talento, la creazione, la comunità delle persone, la creatività tra le persone. Quindi è vero, sono radicato nello spirito, ma io da imprenditore, economista, persona che si sporca le mani, che ama vivere, ho messo sempre le mani in pasta e quindi il mio equilibrio in questa vita è stato in una forte appartenenza alla spiritualità, la sensibilità animica per me, la mia musica, però, anzi, senza però, io sento e so che da me richiede questo. E tante persone a me vicine che hanno sofferto nella vita, negli anni, nel fare un lavoro, nel dedicare tempo a cose in cui non credevano e che non producevano ricchezza, né interiore né esteriore, seguendo poi i carri in economia alchemica hanno cambiato la loro vita, quindi si è creato tutta una serie di, un seguito di persone che segue i miei percorsi, non solo quelli che hanno portato fino ad economia alchemica, ma quelli che da economia alchemica, come quello di Wiki e Wiki, porteranno economia alchemica a due, perché economia alchemica a due, perché economia alchemica a due era dedicato alla rettificazione dei corpi e in maniera molto più semplice, diciamo, al risveglio del talento attraverso la rettificazione della propria coscienza, quindi al controllo, alla conoscenza di sé, ecco, diciamo così, chiudiamo con alla conoscenza di sé, alla liberazione dalle false credenze e all'attivazione dei primi poteri, dei primi talenti animici. Mentre economia alchemica a due produrrà una serie di strumenti di creazione, tra i quali, tra questi ci saranno anche i Wiki Wiki, ma anche altri, di creazione, perché economia alchemica a due si occuperà dei protocolli di creazione. Infatti nel farlo scopriremo che l'Italia, non a caso è così vessata, non a caso è il faro di una cultura, di una civiltà per millenni e non a caso ha, diciamo, in questo contesto, lo spirito del tempo, molta oscurità su di sé, ma proprio perché cela una grandissima, un grandissimo potenziale di luce che è insito in ciascuno di noi. Noi italiani, tra virgolette, o noi mediterranei, che comunque calchiamo queste terre, queste culture, stiamo per poter, come posso dire, rimettere in campo il nostro codice creativo che nel Rinascimento del Cinquecento è stato assolutamente utilizzato per poter potenziare i talenti che poi noi conosciamo con le loro grandi opere. Ecco, queste conoscenze sono già a nostra disposizione, le ho trattate in un altro percorso, infatti vedete, per farvi capire come stiamo procedendo, nel 2023 ho proposto seminari di tipo questo, questo di WikiWiki, il codice segreto del talento umano, dove proprio ho trattato queste cose, la natura della realtà e i codici di creazione, antifragilità e padronanza emotiva, questo per esempio anche con cura libera, un due e tre stelle, anche questo con cura libera, rinascere in quarta dimensione per prendere confidenza con le dimensioni sottili, volontà cristalline, questo a Roma in presenza, un ritiro di tre giorni per sviluppare volontà animica e spirituale, anche qui creare insieme, questo è un evento in presenza, ne faccio vari, ne faccio tanti, faccio vedere solo qualcosa, vedete la grafica è sempre diversa, però in realtà siamo dentro a un percorso molto chiaro, il fiore del talento, quindi come raggiungere la quinta estenza, lo stato di flusso creativo, appena fatto in presenza a Lucca, da Mosaica, sta per partire con Border Knights l'oltava alta della cooperazione umana, perché la cooperazione, però è cooperazione evolutiva, quindi spirituale, sarà oggetto di, è oggetto di un percorso con Border Knights che partirà proprio a fine novembre, sto già lavorando i contenuti, siamo ben messi e quindi adesso attiverò anche un dialogo tra opinion leader nazionali, che ho già fatto, ho già attivato la verità, ma potrete vederlo anche voi, perché nel frattempo sto lavorando anche sul piano della cooperazione, non solo sul talento individuale. Questi sono i percorsi che sono stati seguiti da alcuni come voi, che seguono questo mio processo di crescita e di evoluzione e adesso siamo a concludere il 2023 a conoscere insieme i contenuti di WikiWiki. Diciamoci subito che poi ci saranno dei ritiri intensivi in presenza, vi prego di annotare questa cosa, perché se avete voglia di partecipare agli intensivi che saranno poi fatti in presenza, mi mandate una mail, così magari ci agganciamo anche, vediamo se siamo interessati a collaborare. Comunque Toscana, Lazio, Emilia, Ligure e Lombardia sono tra le regioni in cui nel 2024, parlo dei primi cinque mesi del 2024, in cui si concluderà questa ricerca laboratoriale di Economia Alchemica 2 e diventerà un libro, quindi un percorso che con chi mi ha seguito poi verrà sviluppato. C'è tutto un progetto, è un percorso per facilitatori anche di Economia Alchemica. Bene, WikiWiki, un nome che è piaciuto molto, ha incuriosito molti di voi, sono qui anche solo per il nome, sicuramente amichevole, e sì, effettivamente queste tecniche sono per tutti, ma non per tutti. In che senso? Ecco, così iniziamo ad approcciarci anche a queste conoscenze con un giusto approccio, una giusta attenzione. Ecco, ciò che dobbiamo pian piano lavorare per evitare che queste conoscenze da noi non possano essere neanche afferrate, le esperienze non possano essere esperite, dobbiamo abbassare dei livelli di tossicità interiore. Ecco, questi sono alcuni indizi che vi do, delle cose che si frappongono tra voi e il vostro grande potenziale che avete, di compiere quelle che vengono chiamate magie, magie bianche ovviamente. Se noi non abbiamo ancora fatto un lavoro su di noi, o in quel momento specifico siamo tossici, tra virgolette, dal punto di vista emotivo, mentale, fisico, o abbiamo anche, diciamo, chimica nel corpo, bene, questo stato, questi stati non favoriscono, irrigidiscono, intanto impegnano molto la presenza della mente che impedisce totalmente una sincronizzazione dell'emisferi che vedremo essere un aspetto fondamentale di queste connessioni. Poi altri aspetti, anche qui, di coscienza, evolutivi, di consapevolezza, di cultura, di personalità, dite come volete, insomma, comunque, il dubbio, ecco, la tentazione o l'abitudine al sospetto, il dubbio, o l'approcciare a questi potenziali con intenti egoici, guardate che si ha a che fare con sfere della coscienza. L'intento egoico si può incontrare solo con le sfere della coscienza oscura, soprattutto un certo tipo di intento egoico. Quindi noi non possiamo entrare in risonanza con reali flussi eterici che possono andare in manifestazione. Dico reali perché spesso tante belle lucette ci arrivano in queste dimensioni, ma non sono di alta frequenza, sono più luciferine, spesso, molto spesso. Oppure gli stati di paura, avidità, invidia, competizione, depressione, non facilitano assolutamente questo tipo di stato. E questo tipo di esperienze, direi, perché le esperienze appunto si possono fare solo se si è in un certo stato, più che di un certo tratto, diciamo, di personalità o di un tratto animico. Quindi ciò che invece dobbiamo fare, ecco, diciamo, più che altro, diciamo, c'era così. La cosa più corretta, migliore per tutti, per te anche, sarebbe che a queste conoscenze tu arrivassi dopo aver fatto queste cose o aver in qualche modo integrato queste cose in verde di cui parliamo adesso. Ecco perché io presento queste cose che sono molto delicate, poi vi dirò anche il perché, in maniera graduale. Con me non si è fatto male mai nessuno, eppure abbiamo fatto moltissime cerimoniali molto, molto potenti anche, ma ci si deve arrivare solo con persone che abbiano fatto determinati passi. Quindi io mi muovo così, in prudenza, perché lavoro sulla consapevolezza e non sugli effetti scenici, e quindi il mio sistema, questo che vi offro, sebbene voi non dovreste aver raggiunto certi stati di coscienza o stati vibrazionali, comunque sareste a riparo da alcune delle problematiche che discendono da queste connessioni di cui parleremo. E sono ovviamente disposto, che sono qui anche per ricevere le vostre domande. Dunque, la cosa migliore sarebbe, contestualmente, se non prima, aver lavorato sul proprio risveglio, il lavoro su di sé, quindi raffinare i corpi sottili, emotivo, mentale, fisico, creare il testimone, quindi l'osservatore interiore, e aver fatto delle trasmutazioni inferiori e superiori. Questo sarebbe già notevole per presentarsi a queste esperienze, cioè si capitalizzerebbero molto, molto di più. La capacità di stare e creare stati di euforia, entusiasmo, ebbrezza, estasi, gioia, amore, o di vivere questi stati, perché sono questi gli stati che hanno interesse. Vedremo che sono gli stati che creano un'adrenalina positiva, che è quella che crea l'aggancio, ma non al punto creativo, no, all'etere che diventa creante. Quindi è questa frequenza molto alta, nella nostra gioia, agganciata alla nostra gioia, che è la frequenza dell'amore. Parleremo di amore, conosceremo l'amore da un altro punto di vista, che è l'unica vera forza, l'unica vera forza che esiste, ma l'unica vera forza creante, creativa. Ecco perché questo stato deve essere uno stato anche presente nel momento in cui ci si espone un'esperienza. Quando noi faremo queste esperienze, dovremo cercare, io cercherò di indurvi in uno stato di leggerezza, di approccio leggero alle cose, non superficiale, leggero, farci attraversare da una nostra postazione di autorevolezza anche rispetto ai processi. Altra cosa, la definizione del proprio intento spirituale. Che intento hai approcciandoti a queste conoscenze? Qual è il tuo intento personale nel tuo cammino? Perché questo tipo di esperienze e conoscenze attivano molto le nostre vanità o le nostre, come posso dire, parti più, come posso dire, che tendono verso l'esterno, che cercano di andare in manifestazione più che in riflessione. Io dico sempre che tutte le esperienze più mirabolanti dal punto di vista delle visioni, per esempio, sono fragili di fronte al vero dono che lasciano, che è un'essenza sottile, che non è la visione stessa. Quindi l'affezionarsi anche ai processi di visione va rivisto, va rivisto completamente. Quindi aprire una finestra è una grande esperienza visiva. È importante perché tu scopri di poter fare altro, scopri di essere altro. Questa è la notizia più importante, non tanto quello di ossessionarti con quella finestra che si è aperta. Questo è molto importante. Accedere a una frequenza di fede che può nascere solo dall'aver sperimentato, sperimentato sto dicendo, più che capito o accettato mentalmente che la morte non esiste e quindi sei destinato dopo questa corsa, in questo corpo, in questa forma, ma in questa dimensione, a continuare a volare. Dipenderà da te come e dove e perché, soprattutto, se introduci consapevolezza del fatto che dopo continuerai a volare. Allora perché i nostri progetti, i nostri sogni devono essere proiettati per domani, dopodomani o entro la nostra vita? Vedete che qua c'è il più grande errore nel sognare. Sognare a breve termine, con gli occhi bassi. Noi possiamo sognare per l'eternità e ciò che avremo nel qui ed ora, nei prossimi dieci anni, saranno dune di sabbia fatta di polvere d'oro che ci verrà dal futuro. Avremo tracce che continuamente ci faranno vedere che qualcuno, che siamo noi stessi, è già avanti. Queste cose si possono vivere già nel qui ed ora, ma solo se tu sai che sei oltre il qui ed ora, sei nell'eternità. Questo è l'aspetto forse più importante perché il vissuto di queste esperienze vi trasmetterò questa postura, questa consapevolezza, deve essere così attualizzato da comprendere che è reale, cioè le proiezioni che faremo saranno reali, dovranno essere vissute come se accadute. ecco perché non avrebbe senso e non deve aver senso aspettare poi che si realizzi qualcosa nella materia, nella vita. Questo il mago non lo fa, questo l'alchimista non lo fa, lo sciamano non lo fa, non sta lì ad aspettare che si realizzi, perché l'ha già realizzato in fase di sogno. Aspetta lo spirito poi la materializzazione nel modo, nel tempo, nella forma. Io so, ho ricevuto il frutto di quella creazione che non è mai materiale, ma sottile, già nella mia creazione. Dunque non mi resta che tacere dopo che ho fatto questa esperienza. Attenzione, questo è un altro aspetto fondamentale, la quarta e ultima regola della magia, taci, taci dopo che hai mandato in creazione. Non sto qui a dirvi perché, perché sennò poi si perde troppo tempo su ogni punto, comincio a tagliarmi un po' la lingua, e questa cosa ultima, ma non ultima, la nostra ritrosia a leggere, studiare, e studiare parlo di leggere, leggere, scrivere, prendere appunti, studiare, associare. Questa è una cosa che non ci piace tanto fare. Invece non possiamo crescere, non possiamo andare oltre se non ci avvagliamo degli studi sapienziali, ma anche degli aggiornamenti della scienza, la scienza indipendente prevalentemente, ma anche quella mainstream, perché vivere nello spirito del tempo vuol dire continuare a coltivare la memoria, gli insegnamenti del passato che già indicavano queste strade e incrociarli con quelli attuali. Questa è anche un'operazione che faccio costantemente anch'io, ma nel mio piccolo, ovviamente. Allora, qui c'è l'elenco delle cose, ma per andare di cui parliamo, sta anche nel programma, qui mi soffermo soltanto per dirvi che in questo varco zero parlerò con voi di presenza di primo, secondo e terzo tipo, sono locuzioni che non troverete altrove per adesso, poi le troverete perché qualcuno le emulerà, quindi sono di mio conio, per darvi in maniera più concreta idea di questa benedetta presenza e di che tipo di presenza abbiamo bisogno per fare questo tipo di esperienze. Poi sotto, invece, ci tengo anche a precisare che le fonti che io riorganizzo sono di varia natura. Sciamanica, qui afferiscono alle mie esperienze e conoscenze tolteche, parlo diciamo del sciamanesimo del centro Messico in maniera particolare, che è una vera e propria scienza della modulazione energetica. Una vera e propria scienza non ha nulla di romantico, nulla di, come posso dire, di piacevole. Se io avessi fatto un titolo prendendo dal linguaggio tolteco questo percorso non vi avrebbe incuriosito. Lo sciamanesimo hawaiano invece ha un glossario meraviglioso di parole onomatopeiche e ha invece un connotato molto agganciato alla natura e quindi alla componente biologica, naturale, sistemica proprio della natura dell'uomo e quindi da questo punto di vista è sicuramente più abbordabile per tutti anche se anche le sue pratiche anche se le pratiche pur essendo semplici sono potentissime e sono all'altezza delle conoscenze non praticano le stesse cose però delle conoscenze perlomeno di comunicazione a distanza di cui parleremo sono molto molto diverse ma sono costruite sulla base delle stesse conoscenze. Alchimia spirituale, alchimia interior che è quella che negli ultimi dieci anni ha conquistato la mia attenzione perché insieme alla psicologia quantistica è quella che mi ha aiutato a decodificare o codificare vedete un po' voi le mie scoperte in linguaggi comprensibili per noi occidentali per cui con me hanno avuto il piacere di interagire non solo persone sensibili alla spiritualità ma anche ingegneri persone molto pratiche perché trovano conforto in una persona come me che sono pratico anch'io e quindi sentir parlare me di queste cose insomma tiene un po' a bada certe paure scienza dello spirito comunque mi riferisco in questo caso non in senso stretto ma ovviamente mi riferisco alla scienza dello spirito di Steiner ma non in senso stretto ma nel senso alla metodologia al modo con cui lui estraeva informazioni in modo proprio scientifico e lo faceva proprio anche connettendosi ovviamente soprattutto tutti gli insegnamenti di Steiner anzi derivano da connessioni ma già Bianca che poi per me è un po' la sintesi di tutte queste cose quando sono tese verso il bene verso il bene comunicare a distanza comunicare vuol dire trasferire da da noi dal nostro centro da dove siamo nel nostro centro di coscienza in questo caso anche il corpo ci tengo a precisare vediamo perché parte un messaggio o meglio parte una connessione un ponte un canale che crea la condizione di scambiare messaggi quindi sia di ricevere che di trasmettere quindi il nostro intento non è tanto di trasferire un messaggio anche questo ma spesso anzi sempre inizialmente lo si deve fare intanto di ricevere quindi di ascoltare entrare in risonanza dopodiché eventualmente comunicare nel senso trasmettere trasferire agire a distanza in questo caso così come diciamo nel titolo ma perché perché comunicare trasferire un'informazione a una persona che è in un altro tempo o in un altro spazio vuol dire indurre quella persona o meglio fare con quella persona un'operazione quindi agire ma non intendo agire nel senso di materializzare a distanza o creare azioni a distanza questo no perché lo dico subito quindi magari adesso stendiamo due parole su questo perché come dicevo prima con me si fanno le cose seriamente e siccome conosco questi terreni non ci si mette in questi terreni soprattutto per l'intento che ci muove assolutamente non c'è bisogno di entrare in questi terreni che sono terreni molto pericolosi vi spiego vi dico brevemente quali sono un paio di rischi perché come potrebbe avvenire l'azione a distanza potrebbe avvenire per esempio un metodo che penso che voi conosciate che è quello di uscire fuori dal corpo quindi creare un alter ego eterico capace però di interagire nella materia e quindi di creare a distanza bene questa è un'operazione che sebbene abbia non coltivato ma abbia non neanche sperimentato l'uscita dal corpo io l'uscita dal corpo è una cosa ben precisa è il corpo eterico che se ne esce il corpo energetico ed è una cosa molto specifica diverso il viaggio astrale diverso lo spostamento nelle dimensioni attraverso il corpo animico il corpo astrale uscire dal corpo vero e proprio e iniziare ad agire a distanza è un qualcosa che io ho solo sfiorato in termini di conoscenza e anche di pratiche per crearlo questo movimento abbiamo fatto anche dei laboratori eccetera e non perché sia successo qualcosa di grave ma perché mi fermo sempre un po' prima volevo sondare delle cose ma già sapevo che questa è un'azione molto stupida da fare perché noi lasciamo fuori da noi una grande quantità di energia ogni volta che andiamo cioè la nostra energia che è unica ed è un sistema chiuso poi questo è un po' difficile da magari approfondirlo adesso però eventualmente avremo occasione successivamente ogni volta che noi usciamo fuori e quella componente di coscienza il principio cosciente che è avviaggiato è uscito fuori non è detto che la recuperiamo e recuperarla non è detto che la recuperiamo così com'era e quando si reinnesta come energia psionica cioè che va a modificare tutto dentro di noi noi non sappiamo che cosa recuperiamo quindi mi muovo prudentemente non sto a giocare con queste cose qui viaggi astrali li conduco li creo ma i viaggi fuori dal corpo no e altro modo e questo mi sembra era assurdo è di creare perché questo abbiamo come facoltà e non lo sappiamo lo facciamo continuamente delle entità egregore vere e proprie capace di agire a distanza per conto nostro e questo è ancora di più ma noi non sappiamo ma queste cose le facciamo già adesso non vi voglio fare gli esempi inconsciamente inconsapevolmente stupidamente lo facciamo già anche portando la nostra devozione a delle immagini a delle figure dei simboli quindi capiamoci agire a distanza vuol dire per me influire su una realtà che è oltre lo tempo e lo spazio e per quanto riguarda il tempo è veramente veramente alla portata di tutti averne immediata immediata percezione per dirla con una battuta che porto avanti da tanti tanti anni si crede che il passato sia impossibile da cambiare invece è la cosa più semplice da volare in assoluto altra cosa assolutamente no psicocinesi perché la psicocinesi che è un'altra delle possibilità che avremmo di agire a distanza è un altro campo potentissimo ci sono cose che noi abbiamo a disposizione però molto rischioso per motivi energetici che non sto qui adesso che comunque possono essere intuiti che non sono distanti da quelli che ho accennato prima ok mentre ciò che noi faremo è totalmente in protezione sarà ovviamente in protezione quello che faremo insieme questo è chiaro e anche il come l'intento che c'è dietro faciliterà tutto questo ora sveliamo subito cos'è che consente questa uscita dal tempo dallo spazio cioè questa nostra coscienza che si libera dalle gabbie da binari mettetela come volete della dualità o della realtà visibile diciamo così è la non più classica sincronizzazione tra l'emisfero sinistro ben conosciuto come l'emisfero razionale maschile dei calcoli delle associazioni e l'emisfero destro conosciuto come quello femminile dell'astrazione della fantasia e che riesce a connettersi con il non visibile il sinistro con il visibile e il destro con il non visibile abbiamo una cultura che ha fatto espandere ma non espandere diciamo concentrare diciamo le attenzioni sul emisfero sinistro che comunque continuiamo a usare in piccolissima percentuale grazie agli insegnamenti e alle pratiche che ci vengono passate e mentre l'emisfero destro viene proprio assolutamente tagliato fuori dalla coltivazione sociale accademica scolastica qualunque essa sia perché non sia mai di là esce l'essere umano di là esce il potere divino di là escono le qualità magiche per cui nessuno mai ci invita a lavorare sull'isfero destro l'isfero destro che si attiva durante il sogno voi sapete non siamo qui a parlare di questo concentriamoci più sull'aspetto ecco parlavo di presenza di prima seconda e terza specie e cosa vuol dire essere presenti molto banalmente portare la mente a occuparsi del corpo quindi portare in sincronia la mente che tende a vagare nell'inesistente futuro passato con pensieri automatici associativi non richiesti sicuramente non deliberati da te e la portiamo con uno sforzo con un atto di volontà a occuparsi del corpo come occuparsi del corpo sì attenzionare il corpo con tutto quello che il corpo ti dà in termini di informazioni che arrivano dai sensi quindi è una presenza sensoriale questa è la presenza che viene molto propagandata cioè essere presenti vuol dire che se io sto bevendo un tè a dirlo in modalità zen io sono concentrato sul bere il tè quindi il peso della tazzina il fumo che esce dal calore il gusto il colore sono presenti con questa sincronicità sincronia scusatemi tra mente e corpo la mente smette di sovrabbondarci di frequenze e tensioni isteriche nel sistema nervoso perché si deve occupare di qualcosa di molto più inerte come il corpo e raccogliere dai sensi delle informazioni ecco questo placa moltissimo quella mente immaginifica che dobbiamo imparare a saper guidare noi e questo porta un equilibrio tra immaginare e fare che non potrete comprendere facilmente adesso chi mi segue da più tempo sa qui c'è un'informazione anche molto importante c'è un equilibrio anche tra l'immaginare e il fare ora questa è la presenza sensoriale quindi essere presenti all'attimo presente no? tutto quello che ci accade calore colore quello che vediamo sentiamo chiamo ma andiamo oltre c'è una presenza più profonda che è richiesta per essere svegli perché la prima richiesta ci mette sul piano della veglia ma non ci sta svegliando ciò che ci sveglia è un'altra attenzione quando la mente la porta ad attenzionare i flussi spirituali e quali sono i flussi spirituali? quelli psichici quelli interiori quali sono? emozioni immagini pensieri visioni desideri impulsi sensazioni istinti immaginazioni questo materiale e il materiale psichico e spirituale sono le energie spirituali che gravitano dentro di noi e noi neanche le calcoliamo la vera presenza è questa quando una parte di noi sta sentendo il calore del tè ma un'altra parte di noi della coscienza anzi gran parte della nostra coscienza va poi a intercettare quello che succede dentro di me quando bevo il tè quindi quali sono le sensazioni le emozioni i pensieri eccetera eccetera o eventuali intuizioni immaginazioni che dovessero derivare dal bere quel tè questa presenza di secondo tipo è una connessione un equilibrio tra l'immaginare e l'essere che noi siamo questa è la presenza spirituale cioè sono presente la mia natura spirituale perché sto attenzionando le mie informazioni spirituali quelle cosiddette quaglia le quaglia sono proprio quelle che ho citato prima sensazioni emozioni sentimenti pensieri eccetera eccetera questo è il materiale che produco io costantemente dentro di me e non lo attenziono e qui che devo cresco quando completo la presenza proprio con questa attenzione si parla infatti di attenzione divisa un terzo alle sensazioni scusatemi ai sensi fisici e due terzi ai sensi non fisici quindi alla mia attenzione interiore a quello che accade dentro di me la terza presenza è invece una sincronia tra entità cioè tra me e un'altra cosa tra me e un'altra un altro essere vivente o no che cosa si sperimenta la trinità cioè dalla dualità si passerà necessariamente all'uno perché se io entro in presenza cosmica cioè mi connetto alla frequenza cosmica la frequenza al punto zero da cui tutti noi deriviamo mi sto connettendo potenzialmente con tutti e posso focalizzarmi da lì su un'entità specifica ed entrare in risonanza essendo io stesso divenendo io stesso tornando a essere anche quell'entità e quindi posso sentire non più solo quello che io sento quando bevo il tè ma posso sentire cosa sente un'altra entità che magari sta dall'altra parte del mondo quando in me accade qualcosa o quando accade qualcosa nel mondo quindi presenza di tre tipi io porto la mia presenza ai sensi fisici ai sensi spirituali e alla connessione cosmica questo terzo stadio di presenza è il luogo tra virgolette di coscienza lo stato di coscienza dal quale possiamo procedere per questo tipo di esperienza andare oltre lo spazio il tempo è qualcosa che ci accade così tante volte durante la giornata e non ce ne accorgiamo e dobbiamo imparare invece a a modulare la percezione perché sono una questione di percezione sì anche di costruzione ma come posso dire quasi un gioco di parole se noi conoscessimo la nostra tecnica creativa oculare proiettare e vedere praticamente la stessa cosa quindi percepire o costruire lo spazio è la stessa cosa la stessa cosa per il tempo abbiamo la possibilità di trascendere questi limiti dello spazio-tempo in maniera deliberata riconoscendo conoscendo cominciando a conoscere quelli che sono i vettori che ci fanno prendere il volo vi dico subito perché non sto qui a fare il misterioso che i vettori più importanti sono le emozioni ma vissute in un certo modo certe emozioni in maniera particolare le emozioni stesse sono di fatto emozioni non solo chiavi dimensionali ma proprio sono la dimensione da vivere ma insomma questo poi vedremo ora il lavoro dunque che vogliamo vorrei fare anche in virtù dello spirito del tempo e sì possiamo procedere a come posso dire a connetterci individualmente ciascuno separatamente ma potremmo anche unirci di verremmo un laser nel convergere le nostre proiezioni allo stesso modo tu puoi come posso dire avere esperienze oltre lo spazio e il tempo non desiderato comunque involontarie e invece imparare a crearle vuol dire anche creare un focus al tuo volere che è ben diverso con il sostegno del conscio quindi della parte conscia che è ben diverso da una proiezione inconscia più confusa perché nel nostro inconscio ci sono tanti di quei programmi diversi che la nostra personalità un po' schizofrenica va a inserire che poi la materializzazione la realizzazione non è così semplice e dunque è necessario portare maggiore forza concentrazione e coerenza all'ampiezza e alla frequenza delle onde cerebrali tra gli emisferi sinistro e destro in modo da alterare la coscienza spostandola al di fuori della realtà fisica in modo da eludere anche le restrizioni di tempo e spazio sappiate che queste io per esempio mi avvalgo anche non mi avvalgo ho studiato e ho anche fatto io sulla mia pelle alcune pratiche molto morbide molto leggere che sono state sperimentate anche dalla CIA che funzionano sono molto semplici devo dire ma ce ne sono tantissime che sono ancora criptate quindi non decriptate che sinceramente non andrò neanche a vedere che sono basate invece sull'utilizzo dell'adrenalina negativa cioè abbiamo detto che l'adrenalina positiva lo stato di euforia l'amore facilita questa creazione della concentrazione della nostra energia volitiva in un laser che lo faremo meglio lo spiegheremo meglio ma la stessa cosa avviene quando noi non ne possiamo più di un dolore quindi purtroppo la CIA immaginate ha fatto più esperimenti c'è un progetto Gateway Experience o MK Ultra ancora più diabolico dove le cavie umane venivano messe sotto stress in varia natura e uscivano fuori di senno e in quello stato la coscienza usciva fuori dalle griglie del corpo e effettivamente sotto pressione poteva fare tantissime cose tra virgolette magiche ma vi posso dire mai quanto quelle che si possono ottenere con l'adrenalina positiva cioè con la gioia e con l'amore dunque partiamo con questa immagine di un laser che concentra un'abolizione magari anzi con me assolutamente in linea con l'intento universale per il bene universale per più generazioni quindi anche con l'ugimiranza noi non dobbiamo proiettare in un tempo il nostro desiderio perché il tempo non esiste né il qui ed ora quindi tutt'al più lo prendo tutto e desidero che questo mio sogno sia radicato nell'eternità se io desidero la pace se io desidero l'amore se io desidero che le relazioni tra le persone siano nella verità questo mio desiderio lo posso concentrare in un laser e non lo devo desiderare per domani mattina quando esco da casa lo devo desiderare per l'umanità questa forza focalizza invece che disperdere il tuo potere creativo ho usato la parola makhia che è una delle parole chiave il terzo principio della cultura una hawaiana e recita proprio così sono sette principi di una saggezza guardate ragazzi incredibile incredibile poi potete facilmente trovarle anche voi ma vedremo qualcosa insieme questo è il terzo e dice quello che la fisica quantistica sa bene l'alchimia tutti i maghi sanno e cioè che l'energia segue il pensiero l'energia è ferma fino a che non c'è una forza elettrica del pensiero elettromagnetica che la smuove la mette in movimento e la dirige siamo noi a dirigere l'energia questo è il principio più importante che cosa vuol dire vuol dire che è molto semplice infatti adesso ricordo che se ricordo bene infatti ho previsto una brevissima pratica la facciamo insieme vi chiedo di acquisire una posizione probabilmente sarete tutti seduti è inutile stendersi assolutamente potete essere anche in piedi vi dico che in piedi può essere anche anche più potente faremo una cosa molto semplice in realtà io do poi questi aggettivi potente e bisogna vedere io dipende dalla sensibilità no? anche di ricezione però è una cosa molto semplice cioè quello di attrarre un certo tipo di energia in noi e io vi guiderò così mentre siete ad occhi chiusi nella comprensione di quello che facciamo allora ti chiedo di chiudere gli occhi quest'atto magico meraviglioso che è sempre tra la paura e l'amore chiediamo la finestra verso l'esterno perdiamo totalmente lasciamo fuori i riferimenti della realtà esterna e inizialmente pian piano entrando con il respiro iniziamo a prendere contatto con la dimensione interiore fatta di vuoto buio laddove appaiono di tanto in tanto immagini emissioni luci magari pensieri che vanno e che vengono potete percepire il vostro stato emotivo alcune emozioni che vanno e che vengono le sensazioni del corpo con piccoli movimenti assecondate l'equilibrio che il corpo vi chiede la distensione degli arti passare spalle fa che il collo si alzi leggermente mento leggermente inclinato lingua sul palato respira con amore con amore per te è un gesto semplice ma è qualcosa di meraviglioso se pensi che è gratuito tu chiudi gli occhi respiri riempi la tua essenza con la tua attenzione il corpo stesso ti è grato perché con la tua presenza si rilassa si rilassa questo corpo che deve assorbire le nostre tensioni del pensiero delle emozioni senza essere preso in cura quindi ho la mente adesso passa in rassegna le parti del corpo che senti in tensione comincia dal volto sciogli ogni microtensione prepara il corpo all'ascolto ora con la tua coscienza la tua presenza posizionati dietro gli occhi e massaggia porta calore agli occhi alla parte del retro degli occhi con la tua intenzione puoi smuovere il campo e massaggiare proprio quelle zone lì ammorbidirle sciogliere le tensioni prova a verificare se ti giunge il feedback di benessere c'è sempre un feedback rilassa ancora gli occhi che possono essere pronti al nuovo adesso porta la tua attenzione tra i due occhi rischi inspira ed espira ed espira il viola viola ametista inspira ed espira dalla fronte questo colore visualizzalo così dagli solo il benvenuto lascia che si sfumi e adesso porta la tua presenza invece nel centro della pancia uno due e da lì respira espandi il tuo spazio il tuo regno sei perfettamente nel centro del tuo corpo e del tuo campo energetico siamo consapevoli che ciò che ci tiene in vita è un flusso di energie che spesso si disorganizzano e entrano in squilibrio ma sono consapevoli siamo consapevoli che il cosmo ha sempre a disposizione le frequenze che possono mettere in equilibrio quindi noi possiamo rivolgerci al cosmo quindi al campo energetico cosmico con il nostro campo energetico personale sentiamo già questa aderenza questo contatto e ciascuno per sé faccia un check su un proprio stato energetico provi a visualizzare delle aree se arrivi se arriva l'immagine delle aree che richiedono maggiore attenzione e adesso immagina che dal tuo centro si aprono esattamente se conosci la forma della toroide un cerchio a destra e un cerchio a sinistra di energia che circola in senso uno senso orario in senso anti-orario questa energia crea man mano che si dispiega crea più che altro disvela il tuo campo energetico quindi adesso tu stai ispirando ed espirando nel frattempo oltre a rilassarsi il corpo il corpo energetico il campo energetico si sta ristrutturando rilluminando e adesso immaginati stai in questa immagine prova a creare questa immagine fa parte della pratica saper visualizzare interiormente quindi restituire con il terzo occhio le immagini che sto pronunciando ci sei tu col tuo ovoide energetico che si muove fatto di griglie e c'è il campo toroidale della terra il cosmo che vibrano si includono come una matrioska noi apparteniamo a questa forza divina e quindi adesso con amore chiediamo di essere irrorati tutte quelle frequenze che possono completare il nostro stato energetico e al mio 3 inizia a ispirare dal settimo chakra questa energia che entra nella tua toroidale e si mette in circolo uno due tre il cosmo e madre terra danno copiosamente senza limiti lascia che i tuoi meridiani del tuo corpo eterico i filamenti nel campo energetico si illuminano si rettifichino inizino quasi a vibrare prova a percepire delle micro vibrazioni anche nella pelle non mettere in dubbio quello che sta accadendo benedicilo benedicilo le informazioni spirituali vogliono essere riconosciute non messi in dubbio ora inspira ed espira percependo che questo ispirare questo espirare crea una pulsazione non solo del corpo fisico ma anche del corpo energetico e immagina anzi percepisci più che immaginare adesso puoi percepire che questa pulsazione come se si gonfiasse il corpo poi si restringesse si gonfiasse si restringesse la puoi sentire nel corpo fisico perfino e la puoi sentire anche nel corpo energetico che inizia a espandersi andare ben oltre il corpo ben oltre la tua stanza ben oltre la tua città e che queste frequenze che probabilmente sono le stesse che stiamo attraendo ciascuno di noi o comunque simili ci mettano in immediata risonanza e quindi il tuo corpo va ben oltre si fonde con il corpo energetico degli altri per quella fascia di risonanza in cui il nostro sognare il nostro desiderare è simile raccordiamoci tra di noi intanto stabiliamo questa piattaforma di connessione che utilizzeremo per il sogno collettivo per delle pratiche collettive respiriamo insieme al tuo inspiro ed espiro ora non solo la terra e tutto il cosmo si ingrandisce si restringe ma anche noi stessi come collettivo come gruppo di anime stiamo rinforzando la nostra vicinanza il nostro potenziale collettivo e adesso osserviamo il nostro corpo luminoso il nostro personale corpo luminoso lasciamolo veramente brillare costruisci quest'immagine in te se non ti arriva costruiscila tu luminosissima luminosissimo in questo momento sei un magnete per i tuoi desideri non ti chiedo di pensare nulla assolutamente di introdurre nulla in questo momento semplicemente senti l'energia creativa che sta per concentrarsi e sta aspettando la tua direzione sta aspettando che tu tutto questo capitale di energia che è attratto nel tuo campo energetico possa essere impiegata io direi impiegata semplicemente per quello che stiamo facendo adesso perché abbia senso utilità e grande utilità direi quello che stiamo facendo senza aspettative un desiderio che vuole questa cosa la crea in questo momento stai magnetizzando questa possibilità lo stiamo facendo insieme vogliamo dedicarci alla conoscenza di noi ciascuno mette di sé quello che può in questo cammino comune la scoperta delle nostre meraviglie per l'uscita dei recinti nei quali ci hanno infilati con amore con gioia e con gioco siamo pronti ormai a raccogliere le informazioni finali per un risveglio meraviglioso lascia a te qualche secondo perché tu ti possa congedare dalla tua interiorità dalle forze che hai incontrato e il tuo regno la tua interiorità e il tuo regno e il tuo tutto da cui tutto discende quindi prima di andare via sia quando entriamo e quando usciamo abbiamo grande rispetto anche se siamo l'autorità in questo luogo però usciamo con rispetto e soprattutto amore con l'intenzione di conoscere e di amare e di trasmutare insieme a me alle mie parti più evolute le mie parti interiori che lo richiedono quindi congedagli alla tua interiorità come una presenza regale che ha gratitudine ma che promette anche di tornare molto presto al mio tre puoi tornare qui da noi uno due tre bene e siamo alla fine qui andrò molto veloce perché voglio ovviamente offrirvi un'idea più chiara di quelli che saranno i quattro marchi che incontreremo insieme e saranno dedicati tutti al viaggiare comunicare e agire come ci siamo detti il primo varco sarà con elementi naturali visibili o invisibili e qui avremo a che fare prevalentemente con le tecniche sciamaniche quindi il prossimo incontro sarà questo e aprire il modulare la linea del tempo per esempio e vedete in nero in arancione ho messo le cose che spero di far diventare pratica in questo laboratorio digitale sicuramente lo diventeranno tutte poi comunque in quelli in presenza comunque un paio di queste pratiche le faremo due e tre mentre conosceremo il il concetto di modulazione della linea del tempo che proviene dalla cultura tolteca che è molto importante perlomeno incomincerà ad apprenderlo poi sperimenteremo la non contemplazione del campo delle aree possibilità questo laser noi lo spariamo in una zona che creiamo a nostra volta che creiamo perché esiste già semplicemente la solidifichiamo in termini di percezione che viene chiamata area delle possibilità termine tolteco come vedete i toltechi hanno dei termini molto centrici area di possibilità e lì sperimenteremo delle tecniche di contemplazione per entrare in contatto al campo delle aree di possibilità e poi inizieremo con una tecnica un paio di tecniche il naulo e il culichè in maniera particolare il culichè hawaiano a dialogare e interagire con gli elementi naturali come il vento fiumi faremo un esperimento magari è difficile che ne faremo due vedremo però poi voi potete esercitarvi e continuare a farlo anche con altri elementi io il primo culichè che feci fu con una pietra e rimasti scioccato ma perché scioccato perché mi arrivò una quantità di amore inaspettato da una pietra e comunque sì qualunque cosa possiamo divertirci e interagire col vento e quando parlo di divertirci io parlo spesso giocare divertirci leggero però in realtà sono una persona molto seria attenta e rispettosa di quello di cui tratto e che però vivo la vita anche come un gioco serio è tutto un gioco quindi quando uso questi termini chi mi conosce lo sa non per sminuire ma proprio consapevole della grandezza di queste cose bisogna anche imparare a divertirsi a farle in un certo modo queste esperienze chiedere cosa ha intenzione di fare il vento le nuvole eccetera ecco possiamo poi la comunicazione e l'interazione è fatta di domande se non c'è una domanda c'è un quesito di desideri sostanzialmente c'è qualcosa che non esiste desidera dalle stelle se non c'è un qualcosa che non è visibile che non è presente quello scaturisce un dialogo quello scaturisce un'interazione quello scaturisce una relazione la verità è che col vento non so manco che cosa gli direi e invece infatti che il vento è un solo simbolo ma qualcosa in più dello spirito ogni elemento naturale ogni elemento della materia è un condensato spirituale potentissimo quindi una pietra anche un divano io spesso faccio l'esempio del divano il potere del divano che lo sottovalutate quello c'è la sua coscienza tende a campare più che può ad attrarre i nostri sederi su di sé per tenerci comodi e farsi apprezzare lo fa anche un divano prendetemi pure per pazzo ma vi incontrerò nella terra della pazzia connessione con madre terra molto importante non la facciamo mai la facciamo male non abbiamo ben compreso veramente madre terra che cos'è per un guerriero vabbè non abbiamo spesso manco capito cos'è un guerriero quindi però ecco faremo questa esperienza spero di poterla fare online poi sarà una di quelle che faremo in presenza sicuramente proverò la visione remota invece online una cosa molto particolare vediamo un po' come esce si tratta di connettersi a oggetti informazioni a distanza fisica anche temporale non c'è non c'è differenza da questo punto di vista e in questo caso lo farò però fisica perché io prenderò un qualcosa lo metterò da parte e voi mi dovrete dire che cos'è che ho messo da parte vi indurrò in un processo di visione remota e scopriremo che cosa tireremo fuori probabilmente solo alcuni dettagli magari qualcuno riesce a prendere diciamo il simbolo l'immagine è un oggetto che io nascondo per intero ma sarà molto più probabile avere parti di dettaglio comunque giocheremo la prossima volta anche con questa quindi due pratiche sicuramente molto interessanti il culichè e la visione remota sicuramente le voglio condividere nel varco 2 invece andiamo a interagire con pianti animali quindi prima però interagiamo c'è un minimo di conoscenza del campo eterico vegetale che è molto particolare e poi sperimenteremo appunto delle connessioni in questo caso anche potremmo utilizzare il culichè hawaiano ma anche altro vedremo vedremo contatto e connessione con un animale guida questo sicuramente se voi non avete fatto queste esperienze sarà importante fare più questa che è quella della connessione con l'anima di gruppo cioè varie specie animali a cui fare indagini nel passato nel futuro sarà più interessante sicuramente lavorare su un animale guida terzo varco invece con i soggetti più difficili di tutti proviamo a viaggiare comunicare e agire con gli esseri umani ecco da questo punto di vista mi ha parlato anche di tecniche di alchimia spirituale della scienza dello spirito e di psicologia quantistica quindi stabilire connessioni con il proprio io superiore ma anche quelli inferiori questo è molto importante perché tutto ciò che noi facciamo lo facciamo in virtù di questa connessione con il nostro sé superiore non perché ci sia io a condurre i lavori le cose funzionano se io faccio questa cosa porto rinascinazione ma la fai anche tu e facendo anche tu anche se per poco tempo o in maniera sottile ti arriveranno comunque copiose informazioni perché questa è la generosità dello spirito e attraverso un punto di informazione infinitesimale concederti proprio in qualità olografica frattalica tutta la verità in un solo puntino poi connessioni interazioni con incarnati viventi a distanza cari con i quali vogliamo interagire oppure disincarnati i nostri defunti ecco qui l'ho lasciato in nero perché fare una pratica non la vedo assolutamente sicuramente posso insegnarvi una con i viventi in maniera molto veloce la possiamo anche fare terzo arco ma non certo con i defunti per i quali invece vi darò delle indicazioni ed è una cosa molto più seria e delicata è ricca anche di qualche contraindicazione per cui insomma ci dobbiamo dobbiamo approfondirla questa parte non ve la passo così con leggerezza e invece sicuramente ci dedicheremo a qualche esperimento di telepsichia e di empatia a distanza di conoscenza cura azione e dialogo a distanza con un'anima nient'altro mentre cioè con una persona vivente o non vivente che è stata comunque a voi vicina quindi è entrata in connessione completa quindi lentamente è agganciata imbrigliata a voi l'ultimo varco è per interagire con esseri superiori a cominciare dal sé superiore e ci diremo qualcosa degli esseri di luce e vi dirò qualcosa anche di tutte le altre identità e di tutte cioè vi parlerò in genere ovviamente però aprirò gli occhi un po' su come muoversi in questo spazio di connessioni con altre entità bisogna fare molta attenzione e anche gruppi umani ora i temati che saranno il campo eterico superiore gli spiriti evolutivi e le connessioni che possiamo fare con loro le gregore delle entità superiori contattare il proprio sé del futuro che è ripeto il sé superiore e il sé del futuro solo che noi lo possiamo proprio anche forgiare essendo del futuro possiamo avere dei futuri differenti a scalare e il sé superiore è quello a cui tendiamo definitivo ma possiamo stabilire verso quella direzione altri sé che marciano e che ci consentono quindi al sé inferiore con la nostra personalità in questa manifestazione di avere un tracciato divino fattibile percepibile agguantabile agire sul campo eterico in gruppo questa è una pratica che vorrei fare perché ci saluteremo con l'ultimo varco il quarto e quindi vorrei fare una pratica di sogno collettivo probabilmente secondo delle tecniche dei cacciatori di sogni bianchi che è un altro dei miei contenitori evolutivi e dunque sì ci lasciamo con questa visione verso il futuro e ci vediamo ci lasciamo anche con questa promessa di rivederci al prossimo varco il primo varco per imparare a viaggiare comunicare e agire con elementi naturali e agire a viaggiare Grazie a tutti.